Piero della Francesca, Giorgio Vasari, Cimabue, basterebbero questi tre nomi a far capire la grandezza delle opere artistiche e storiche che custodisce la città di Arezzo e tutto il territorio provinciale. Eppure Arezzo non ha più una soprintendenza indipendente dopo la riforma del 2014 e l'accorpamento con Siena e Grosseto del 2016. E' il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli dopo un incontro nello scorso febbraio a scrivere nuovamente al ministro Bonisoli affinché si adoperi per far tornare ad Arezzo una soprintendenza che si occupi esclusivamente dei tesori aretini. Sì, in realtà io ho avuto un colloquio riservato e privato con il ministro Bonisoli già dal settembre dello scorso anno, poi rinnovato su questo tema in una visita che avevo fatto al ministro a febbraio durante la quale avevo richiesto espressamente come primo punto fra quelli trattati di adoperarsi per riportare la soprintendenza ad Arezzo. E avevo avuto, devo dire, positivo riscontro da parte del ministro che essendo uomo di cultura non ha potuto che convenire circa il fatto che un patrimonio culturale come quello di Arezzo non può essere gestito in condivisione di intenti con la soprintendenza di Siena e di Grosseto. E quindi avevo avuto un'apertura su questo. Recentemente ho visto sulla stampa interventi a favore di questa mia richiesta e quindi ho colto l'occasione per ricordare al ministro questo suo impegno a distanza di quattro mesi da quel colloquio col quale gli ho semplicemente ricordato dell'impegno che si era preso con me e che credo avrà sicuramente esito positivo.